Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, non è un momento questo di libera tutti, lo voglio dire chiaro. Loro non c'è assolutamente nessun atteggiamento materialista da parte del governo, nessuna insensibilità su questo. C'è sì una grossa rigidità come è stato anche anticipato dal Comitato Tecnico Scientifico, sul presupposto che anche nella letteratura scientifica che loro hanno, la pratica religiosa è una delle fonti, ma per dire statistiche, è stato rappresentato per quanto riguarda i popolari epidemiologici. L'anticipato adesso ci lavoreremo, abbiamo bisogno di un po' più di tempo, lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni liturgiche in piena sicurezza.